buongiorno oggi vi presentiamo questa ultima vettura arrivata qua da noi in autosmile un'eccezionale infinity marca giapponese luxury brand di nissan q30 allestimento business executive con cambio automatico il dct 7 rapporti doppia frizione cerchi in lega da 18 pollici sensori di parcheggio bellissima antenna a pinna bagagliaio molto ampio vi ricordiamo che questo progetto della q30 infinity l'ha sviluppato insieme a mercedes infatti sul senso pianale della gl a e classe a guardate gli interni in pelle alcantara molto belli con cuciture a vista pensate questo che un pannello porta posteriore guardate come rifinita battitacco personalizzato voi guardate i sedili venite a toccare il materiale la pelle che hanno utilizzato e capirete perché è luxury brand giapponese infinity guardate la plancia cucitura vista anche sulla plancia ci sono delle cose che sono opere d'arte nel settore automobilistico questa è una di quelle regolazione lombare elettrica climatizzatore automatico b zona sedili anteriori riscaldabili sistema start and stop attivazione sensori di parcheggio del cambio automatico doppia frizione il navigatore satellitare che si comanda sia come touchscreen oppure dal joystick centrale comandi del cambio al volante per aumentare di marcia e diminuire specchietto interno anti abbagliante questa vettura una vettura aziendale guardate come è tenuto il motore anche il vano motore molto ordinato il motore è il 1.5 109 cavalli vi aspettiamo per venire a godervi di questo lusso queste rifiniture che tante volte solo i giapponesi riescono a darci